Al via la terza edizione di Terre Sonore, il festival itinerante ideato da Fano Jazz Network con la direzione artistica di Adriano Pedini. In programma dal 30 luglio al 27 agosto ben 20 concerti distribuiti in 19 comuni della provincia di Pesaro Urbino. Ci aspettiamo che Terre Sonore possa rappresentare veramente un passo in avanti rispetto a quella che è la promozione del nostro territorio. Noi vogliamo fare la nostra parte, daremo il nostro contributo portando nel territorio musica di qualità insieme ad altri eventi che sono significativi, che fanno parte del nostro modo di pensare. Faccio una citazione su quello che sarà i tre appuntamenti del giornalismo d'inchiesta, questo festival di macchie e inchiostri. Quindi cercheremo di arricchire tutti gli appuntamenti nel territorio con altrettanti appuntamenti significativi che daranno un segno di come è la nostra partecipazione, come intendiamo noi vivere questo territorio magnifico che a volte è molto nascosto, a volte poco conosciuto e quindi crediamo di poter contribuire. Dopo la felice esperienza delle due passate edizioni, confortate da una presenza considerevole di pubblico e dalle adesioni crescenti dei comuni, Terre Sonore 2023 si presenta come un progetto di rigenerazione, un processo olistico che riguarda le persone, l'ambiente e la storia. L'appuntamento è alla prima serata del festival, in programma domenica 30 luglio alle ore 21.30, presso la riserva naturale statale Gola del Furlo. Domenica 30 il Fano Gez che ormai è da 11 anni un punto fisso della rassegna dove appunto termina Fano Gez nel splendido scenario della Golena e da lì esplode per le Terre Sonore, quindi anche perché ormai la riserva è diventato il cuore pulsante del territorio, della natura provinciale, cioè veramente un punto di riferimento per tutta la provincia e quindi non poteva non terminare una rassegna e iniziare quella che è poi in un'esplosione in tutto il territorio provinciale. Fra le peculiarità che caratterizzano Terre Sonore rientra la condivisione di ogni appuntamento con le comunità locali, prevedendo l'abbinamento dei concerti a momenti conviviali con l'obiettivo di valorizzare prodotti enogastronomici tipici, iniziative espositive, visite alla scoperta di borghi antichi e momenti di approfondimento su alcune tematiche del nostro tempo.